Tu avrai una lunga vita, avrai molti amici, farai molte esperienze, perderai tutti i tuoi soldi, sta tranquilla, riuscirai a riaverli tutti quanti e un giorno tornerai a Bali e allora io ti insegnerò tutto quello che so. Mamma, quando è che hai accettato la vita che fai? Oh, amore mio, sempre alla ricerca di qualcosa. La gente tende a somigliare al proprio cane, tu una volta somigliavi a Steven e adesso sei identica a David. Io ho bisogno di cose nuove. Da quando avevo 15 anni non ho fatto altro che trovare o piantare un fidanzato. Non mi sono mai presa due settimane di respiro per occuparmi di me stessa. Vuoi andare via per un anno? Ho sempre avuto una grande voglia di vivere e non ce l'ho più. Voglio andare in un posto dove meravigliarmi di qualcosa. Vado in Italia, poi vado in India e poi finirò l'anno a Bali. Ho una storia d'amore con la pizza. Diciamo che è una specie di pane, amore e carboidrati. Se riesci a fare un po' di spazio nella tua mente, si apre una porta. E allora sai che cosa fa l'universo? Uff, ti inonda. E tutto il resto non conta più. E tutto il resto non conta più.